Il tema affrontato oggi dai due relatori è stato un tema prima di tutto direi di coscienza sociale e di consapevolezza. I due relatori con due prospettive diverse ma sicuramente integrate tra loro ci hanno fatto capire quanto il tema delle disuguaglianze, delle loro determinanti sia cruciale anche in campo sanitario. Differenze nella possibilità di vivere a lungo, differenze in termini di salute hanno alla loro origine troppo spesso problematiche di tipo socioculturale ed economico e quindi il livello di educazione, il livello di democrazia in un contesto sociale, il livello di delinquenza o di presenza di tutta una serie di elementi che hanno a che fare con il nostro vivere civile hanno un impatto determinante sulla possibilità di sopravvivenza delle persone. E quindi il suggerimento di considerare il tema della sostenibilità collegato alla salute come un tema che trova le sue modalità di risoluzione andando indietro in qualche modo e non fermandosi solo alla fase di erogazione dei servizi, quindi la fase proprio dei servizi sanitari, dell'health hacker come i relatori ne hanno parlato. Quindi in qualche modo ci hanno chiesto come cittadini in primo luogo di intervenire presso i nostri policy maker, presso nei contesti in cui operiamo per alzare la testa su questo tema e chiedere alla nostra politica di lavorare con una prospettiva di medio e lungo periodo legando il tema della sostenibilità al tema del cambiamento del nostro sistema mondo in termini di climate change, in termini di giustizia, in termini di lotta alla povertà come determinanti fondamentali per garantire salute e quindi longevità alla popolazione.